Non si arresta l'attività della Polizia di Stato di Caltanissetta, impegnata nel controllo del territorio. Nel corso dell'attività di prevenzione e repressione dei reati nel territorio della provincia, gli agenti hanno denunciato all'autorità giudiziaria 12 persone, eseguito 8 perquisizioni e sequestrato a Ashish. In particolare, una 44enne è stata denunciata per furto, un 33enne per adescamento di minori. Due persone, un 44enne e un 22enne, sono state denunciate per atti persecutori. Altre due, un 65enne e un 44enne, per il maltrattamento in famiglia. Un pregiudicato 28enne, sorvegliato speciale dall'autorità, è stato denunciato per violazione della prescrizione. Altre quattro persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria. Un 47enne per danneggiamento, un 37enne per sostituzione di persona, un 61enne per minaccia e un 39enne per violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato. Infine, un 30enne è stato trovato in possesso di Ashish e segnalato per uso personale di stupefacenti, mentre nel corso dell'attività di polizia giudiziaria sono state eseguite 8 perquisizioni personali.